benvenuti in questa guida top 7 baby monitor di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo baby monitor sicurezza nel monitoraggio del proprio bambino la nostra telecamera bambini rientra come accessori casa tra le idee regalo come vediamo la nostra valutazione una eccellente qualità generale interessante l'offerta con particolari caratteristiche con un rapporto qualità prezzo molto alto il nostro punteggio generale è di 81 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo la xia baby 1080 phd più visione notturna superiore m1 baby monitor video e audio con visione notturna migliorata registra filmati con una qualità full hd ecco cosa pensiamo nella qualità generale diamo 3 stelle 5 stelle per la promo sconto nelle caratteristiche diamo 4 stelle risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 83 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo chicco baby video baby monitor con il video baby monitor smart di chicco puoi controllare il tuo bambino in ogni parte della stanza e monitorarlo durante vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 4 stelle buona la promozione per funzionalità diamo 5 stelle risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 78 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare baby monitor dimensioni ridotte e facile da trasportare bio if un progetta una nuova generazione di baby monitor portatili in una dimensione p piccola e vediamo il nostro parere un eccezionale qualità generale offerta molto interessante 5 stelle per le caratteristiche straordinario il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 84 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo baby monitor alta risoluzione dello schermo digitale a colori lcd da 3,2 pollici la tecnologia wireless a 2,4 gigahertz migliorato 100% connessione privata e vediamo la nostra opinione una qualità generale eccezionale proposto a super sconto per funzionalità diamo 5 stelle con un rapporto qualità prezzo adeguato il nostro punteggio generale è di 85 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo baby monitor modality vox e visione notturna in modality vox lo schermo del baby monitor nero lo schermo si accende quando il bambino inizia ecco la nostra valutazione una qualità generale eccezionale interessante l'offerta con particolari caratteristiche con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il nostro punteggio generale è di 92 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica remido baby 3.2 pollici and 930 milliampere ora la capacite della batteria di 930 milliampere ora le garantisce di poterlo usare per 5 a 7 ore sotto la condizione di modality vox ecco il nostro parere una qualità generale buona 5 stelle per la promo sconto con particolari caratteristiche con un rapporto qualità prezzo molto alto il punteggio è di 99 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale